Martedì prossimo, primo settembre, si celebrerà la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. In comunione di preghiera con i nostri fratelli ortodossi e con tutte le persone di buona volontà, vogliamo offrire il nostro contributo al superamento della crisi ecologica che l'umanità sta vivendo. In tutto il mondo, le varie realtà ecclesiali locali hanno programmato opportune iniziative di preghiera e di riflessione per rendere tale giornata un momento forte, anche in vista dell'assunzione dei stili di vita coerenti. Con i Vescovi, i Sacerdoti, le persone consacrate e i Fideli Laici della Curia Romana, ci troveremo nella Basilica di San Pietro alle ore 17 per la Liturgia della Parola, alla quale fin d'ora invito a partecipare tutti i Romani e tutti i pellegrini e a quanti quelli che lo desiderano.